L'hotel Magna Pars Suite Milano è il primo hotel a parfum, un albergo che nasce dalla nostra storia, dalle nostre radici. Questo edificio era la nostra fabbrica di profumi. Quando poi ci spostammo di fuori di Milano a Lodi abbiamo mantenuto la proprietà e abbiamo deciso di fare un investimento nel settore alberghiero e abbiamo trasferito la nostra passione per i profumi nel concetto dell'albergo. Nasce nella zona via Tortona, una zona oggi sicuramente cool e di design della città di Milano. Tutta l'ispirazione dell'hotel è legata al mondo del profumo. Abbiamo 28 suite, ciascuna col nome di un particolare ingrediente olfattivo. Per ogni suite abbiamo creato una fragranza differente. Tutte queste fragranze sono assolutamente originali e il nostro cliente può scegliere sia la dimensione della suite, ma anche l'ingrediente o il fiore che preferisce. L'hotel dispone di un giardino interno dove abbiamo tutte le essenze tipicamente mediterranee. Abbiamo un bar, liquidan bar. Liquidan bar è appunto il nome sempre di una pianta che ha una resina odorosa. Abbiamo una piccola enoteca. Abbiamo una roof deck. Abbiamo un ristorante che si chiama Da Noi in Via Forcella 6, gestito da Fulvio Siccardi. Fulvio è uno chef che è stato già due volte stellato. È un nostro amico da molti anni che conosciamo per la sua esperienza di cucina piemontese. La cucina nasce quindi da una tradizione piemontese, ma rappresenta un po' l'identità di tutte le regioni dell'Italia. Io mi sono sempre ispirato a una cucina pulita, netta, senza troppi fronzoli. Di chiara ispirazione logicamente una parte piemontese, molto italiana, tradizionale e moderna allo stesso tempo. Ho sempre voluto utilizzare innanzitutto ingredienti e aromi provenienti soprattutto da quello che ci porta l'orto e quindi qui abbiamo giocato anche molto su questo. Quindi essenze, profumi particolari, erbe aromatiche, la fanno da padrone in una cucina sicuramente non troppo troppo tradizionale, ma con un occhio di riguardo verso l'italianità.